Ragazzi avete vinto la sfida del tatuaggio, me ne lancio un'altra perché se questo video dovesse arrivare a 15.000 mi piace farò il video di me che vado dal tatuatore, perché l'ho già prenotato, ve lo dico, l'ho già prenotato me che vado dal tatuatore, proprio si vede che mi sta tatuando sulla penna, se no lo faccio, ve lo faccio vedere e basta La sfida è stata lanciata ragazzoni, lasciate tutti quanti un pollicione e ascoltatemi bene perché c'è un contest per quanto riguarda il codice creatore Tutte le persone che inseriranno il codice creatore nello shop Piazzprovini, Piazzprovini, ve lo scrivo qui sotto Mi taggate su Instagram una volta che l'avete inserito nello shop, io ne estrarò 10 Queste 10 persone entreranno a far parte di STR in un periodo di prova, quindi inserirete il tag STR prima del nome Entrerete nelle nostre chat, nei nostri gruppi, così potete leggere quello che ci scriviamo, come funziona STR dall'interno Potrete anche partecipare voi, come se foste degli STR perché per quel periodo siete degli STR Se dovesse servirvi qualcosa come processori, schede video, case, mouse, scaff, cuffie Ci penso io perché siete degli STR a tutti gli effetti per quei 10 giorni Poi ovviamente se siete dei player forti e interessanti, perché no? Quindi buona sfida a tutti, Piazzprovini nello shop, taggatemi su Instagram Il mio Instagram è andreapiazz-basso, ve lo lascio qui Buona fortuna ragazzoni, è una sfida davvero molto interessante Buona visione C'è una jump che può usare Sono entrambi in X8 ragazzi, quindi ho poco da far vedere Sono entrambi infermi immobili, anche perché Che senso andare Far movimenti di merda, hanno entrambi la zona Andre ha messo benissimo, busta un po' meno Sì, ma sta urlando Sei tre partite, la Tintot, tipo la serata tutta da lonti, la seconda notte Questa è un po' meno sono entrambi sotto immobili hanno una jump andre busta non ha movement strano solitamente busta c'è sempre un botto di roba la zona ce l'ha deve spostarsi un po se vuole prendere la prossima non ha queste super armi a livello di di pump però vabbè più che 52 ne mancano porca sono lobby della madonna sempre cioè sembrano lobby facili perché magari i primi muoiono subito ma poi non muore più nessuno fino alla 50 o fino a quella prima e quindi cazzo diventano lobby difficili a prescindere spero speriamo in busta che riesca anche lui storm sorge sopra di tantissimo kill di andre così 10 in qua 10 4 vai 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 con le le due spaccalo sto tasto da mangiare andrò da mangiare andrò ripteparda usalo il rift usalo usalo e lo so che adesso lui padda perché il rift non vuole quella dopo ma se mentre padda lo laserano di brutto c'è il geyser c'è il geyser c'è il geyser guarda dov'è il geyser c'è il geyser andre c'è il geyser non mi non so dove ma c'è puoi pensare di usarlo sei vicino questo che cazzo fa che cazzo fa ci sta facendo capire chi ha un rift che se non lo puscia lo salva lui stanno geyserando tutti pensaci andre dai può essere una buona idea ce l'hai ce l'hai ce l'hai ce l'hai ce l'hai ah vuole riftare poteri deltaplani effettivamente è vero non giocare like su metallo adesso no tanti materiali invece non ho visto male io ho visto male io ho fatto bene non so perché noi ho visto né il legno né il metallo pensavo avesse 230 di mattone e basta ho visto malissimo ho visto male io i materiali ok ha fatto bene allora perché un po sgranato non hai like su tutti occhio eh 45 mamma mia che partita di poco questo è questo è oro sta roba è oro pad e la cosa due sono una una ok lanciarazzi 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 grazie pietro grazie della sav grazie mille bro grazie del supporto siii 121 non è morto fanculo dai lo storm surge quando parte che ne muoiono un po' hai partito ora è bianco è bianco siii kill gliela data 506 danni sopra mamma mia quante palle ci sono il mattone bello bravissimo andre no non farti killare ti prego ne mancano cinque andre uno ne manca uno top bravo che culo che culo che culo brava zona 19 non c'era nessuno hanno arrivato a un metro bravo va bene lascialo stare ok scusa non lo dico mai più top 15 let's go corrazzo corrazzo non lo fai più cadere quello andre quanto vuole prendere l'high ground ha capito che non lo può prendere e che cazzo dai curati 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 va bene dai bravo andre ha fatto un rischio a fare un rischio mamma mia che rischio sulla kill del tizio fortuna che dl2 è il più forte del mondo porco giuda best l2 in italia fa bene giocarsi l'high ground così spesso ce la siamo studiata mille volte sta roba bravo bravo andre davvero bravo 17 punti grazie a tutti